Due minuti dal Festival di Cannes, con Mariella Dey e le riprese di Daniele Dini, tutto questo su 102 e Zenit Magazine. Le immagini, le interviste e i commenti dalla 68esima edizione del Festival Francese che celebra il cinema mondiale. Dal 13 maggio, collegamenti giornalieri, dal Palazzo dei Festival dei Congressi di Cannes. Con noi.